Sheila rivela a Finn di essere tornata per restare e il dottore la spinge a seguirlo nella grande sala per le presentazioni ufficiali Il dramma sta per abbattersi sulla famiglia Forrester. Una nuova puntata attende i fan di Beautiful Le anticipazioni ci fanno sapere che il matrimonio tra Finn e Steffi è andato a gonfivele e l'unica cosa che no on sanno è che a breve sta per consumarsi una tragedia Fine al settimo cielo per aver conosciuto la sua madre naturale ma no on sa il passato della donna nei confronti soprattutto della famiglia Forrester Il dottore no on vede l'ora di presentarla a tutti e nello stesso tempo donna e sua sorella sfogliando un album del loro nuovo nipote vedono la loro nemica La secondogenita confesserà di essere ancora molto legata a Eric e di essere pronta a tornare da lui, se solo il destino lo volesse Beautiful, anticipazioni, Sheila Carter è tornata le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che il matrimonio di Steffi non poteva riservare sorpresa peggiore Il bel neo marito della Forrester ha finalmente incontrato la sua mamma ma no on sa ancora che a breve accadrà di tutto Il medico no on vede l'ora di presentare Sheila a tutti e la donna dopo aver rifiutato la prima volta decide di seguirlo in salone Intanto, la Carter le dirà di essere anche lei molto contenta di essere tornata e che nonostante lo abbia abbandonato da bambino lo ha sempre pensato ogni giorno Fini incontra sua madre, Webb Donna vuole tornare con Eric Le anticipazioni della puntata di oggi ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato anche a Donna e Katie Le due sorelle, non invitate alla cerimonia, sono alla Forrester e stanno sfogliando alcune vecchie fotografie Il colpo di scena avverrà proprio in questo momento in alcune immagini vedranno proprio Sheila Carter La loro reazione sarà un bridio, senza sapere che a breve la incontreranno di persona Poi Donan si rivolgerà a Katie con tenerezza e non nasconderà di provare ancora un forte sentimento per Eric Forrester Cosa succederà quindi? Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci sempre su Formato News Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!